Buongiorno ragazzi e buongiorno a tutti, abbiamo vinto 3-0 ma non è tutto rose e fiori perché a me è andato fastidio parecchio che nel primo tempo si poteva tranquillamente preferisco che il primo tempo lo chiudiamo 2-3-0, il secondo tempo magari l'occasione di Guain che ha fatto gol o quella di Dybala non vada dentro perché sinceramente preferirei mettere in cassaforte la partita prima perché comunque fino al 65esimo la partita era ancora in bilico e perché poi abbiamo fatto 3 gol, perché fatto un gol l'Empoli si è sbilanciato e nonostante l'Empoli fosse chiuso noi comunque abbiamo creato molto e qua non si può dare la colpa ad Allegri se quadrato si mangia un gol invece di accentrarsi rimane dritto e rimane largo quindi si fa praticamente chiudere lo specchio a porta al portiere e sbaglia un gol che dire che ha sbagliato un gol dopo pochi minuti, stop, tiro, ha sbagliato un gol la mi dicono è fuorigioco, io con i fuorigiocchi sono sincero l'ho detto con Zecco quando nella prima partita mi hanno fischiato un rigore partenza in fuorigioco di un centimetro con i fuorigiocchi io non li fischerei mai perché sono cose che secondo me non trae un vantaggio così netto quindi la punta in fuorigioco, il ginocchio in fuorigioco io questi fuorigiocchi capisco a mezzo metro ok ma così sinceramente non li fischerei mai quindi trascando il fuorigioco è un errore che non si può fare nel secondo tempo abbiamo avuto 4 palle gol, 5 palle gol nel primo tempo poi nel secondo tempo fino al 3-0 abbiamo creato compresi 3 gol, 4 palle gol, 3 buttate dentro questa è la differenza, tutto qua cioè abbiamo creato, abbiamo fatto anche un bel gioco oggi sinceramente a parte qualche passaggio che mi ha fatto tirare giù i santi però comunque abbiamo creato parecchio, abbiamo fatto un bel gioco ci sono state delle azioni anche di prima Hernanes, siccome sta giocando bene in questo periodo a parte anche lui qualche errore ma l'ha fatto che dire come l'hanno fatto altri insomma non è che sono perfetti però concretizzassimo il 90% di quello che creiamo le partite finirebbero come finiscono ad esempio in Spagna quindi quando il Barcellona vince 6-0, 7-0 finirebbero qua a favore della Juventus con lo stesso risultato altra parentesi, Piazza sinceramente è un gran giocatore quello che abbiamo creato quando è entrato lui l'abbiamo creato tutto con lui però non bisogna esaltarlo io voglio vederlo contro difese fresche quindi dal primo minuto perché tutti sono bravi a entrare con lo sprint che ha, comunque con le qualità che ha Scardinale e difese un po' morte e già sul 3-0 bisogna vedere dopo dall'inizio insomma contro le difese che sono chiuse che cercano ancora di tenere risultato che ti marcano, ti doppiano, ti triplicano quindi lì voglio vedere Piazza ripeto, è un gran giocatore e ha delle grandissime qualità allucinanti veramente però non facciamo come altri che esaltano i propri giocatori così era cazzo altra cosa, Higuain allora trascando che sono contentissimo di Dybala oltre al gol in sé per la Juventus e anche per il fantacalcio dato che ho lasciato in tribuna addirittura Immobile che ha fatto doppietta ieri e lasciamo stare va perché Immobile non fa un cazzo quando lo metto in campo poi fa doppietta vabbè lasciamo stare Higuain allora bisogna finirla di fare paragoni Higuain-Napoli-Juventus l'affare Higuain per me ha giuvato a tutti a Napoli che vendendolo a parte i soldi intascati che bisogna vedere poi effettivamente quanti ne ha usati per il mercato a Napoli che comunque non ha fatto una squadra attorno a Millic l'ho detto già due settimane fa sinceramente che adesso in questa settimana gli espertoni di calcio dicono che il Napoli non è Millic dipendente ma io lo dicevo due settimane fa tre settimane fa si vedeva che il Napoli giocava più di squadra con gli inserimenti anche degli segni d'attacco con più soluzioni non con la prima punta e basta e l'ho sempre detto ha fatto l'affare il Napoli che così non ha un punto non fa girare la squadra su un giocatore e basta ha fatto l'affare Higuain che è andato in una squadra che voleva fortemente che vuole vincere qualcosa da protagonista perché ha vinto qualcosa con la Madrid ma non da protagonista assoluto lo vuole vincere da protagonista ha fatto l'affare da Juventus che ha trovato finalmente un finalizzatore che si poteva tranquillamente affiancare a Dybala o affiancare a qualsiasi altro attaccante ed era il finalizzatore che ci mancava a mio avviso dai tempi di Treseguet il secondo gol secondo me anche con qualche qualità in più di Treseguet ad esempio il tiro da fuori che Treseguet secondo me non aveva poi ragazzi non facciamo tanti gol, la difesa tituba, cose che ho sentito fino a ieri vai a vedere le ultime 4 partite tra Champions e il campionato hai fatto 12 gol in 4 partite solo contro Palermo e non hai fatto più di un gol e hai preso 0 gol in 4 partite dopo la partita dell'Inter secondo me il trend è cambiato anche come gioco tralasciando Palermo che abbiamo faticato ma anche là se approfittavamo dei primi 20 minuti delle occasioni che abbiamo avuto anche con lo stesso Guain che è stato rispinto un tiro e quant'altro potevamo essere già sul 2-0 dopo 20 minuti quindi bisogna concretizzare proprio per questo perché non sai se poi nel secondo tempo avrai le stesse occasioni che hai avuto nel primo perché l'Empoli è calato nel secondo tempo ma non sapevamo che magari con la partita fatta martedì potevamo calare anche noi quindi creare anche meno invece per fortuna non è stato così però per questo bisogna essere cinici non dico al 100% che nessuno è cinico al 100% cioè Barcellona vincerebbe sempre 10-15 a 0 però almeno l'80% devi buttarle dentro oggi non abbiamo sofferto neanche i calci punizioni, i calci d'angolo e quant'altro la cosa che secondo me pecchiamo ancora è che non riusciamo a creare o a fare gol sui calci d'angolo o sui calci punizioni questo è una cosa che bisogna migliorare perché può essere che soprattutto in Europa alcune partite tu le possa sbloccare solo con calci piazzati e tu devi approfittare di quei pochi calci piazzati che hai sono contento che è ritornato Sturaro ha giocato un po' di minuti con la prima squadra oggi dopo aver giocato con la primavera la scorsa settimana e sono contento anche di Mattiello che è tornato a giocare ieri con la primavera nella partita vinta dalla Juventus primavera 2-0 contro Sassuolo che era scontro diretto ci vediamo al prossimo video e sempre fino alla fine Forza Juventus